Ben tornato Guter, ben tornato. Andiamo a terminare la sezione modifica impostazioni PC. Ora è il turno di aggiornare i prissina. Questa sezione consente di impostare i metodi di aggiornamento del sistema operativo e scegliere il metodo di ripristino in caso di malfunzionamento o degrado delle prestazioni. Cosa significa? Naturalmente, innanzitutto, devi accedere come già sai fino a raggiungere questa schermata e cliccare sul pulsante Aggiorni e Ripristina. Otterrai tre possibili sottosezioni. Windows Update, Cronologia File e Ripristino. Partiamo da prima Windows Update. Da questa sottosezione puoi verificare se ci sono aggiornamenti disponibili per il sistema operativo. Cliccando naturalmente sul pulsante Verifica disponibilità aggiornamenti. Il secondo pulsante visualizza la lista della cronologia degli aggiornamenti. Potrai visionare tutti gli aggiornamenti che sono stati installati oppure quelli che non hanno avuto successo. L'ultimo ti consente di scegliere come installare gli aggiornamenti. Andiamo avanti. Da qui, infatti, si aprirà una nuova schermata in cui potrai decidere se installare gli aggiornamenti in maniera del tutto automatica e nascosta, quindi senza che tu faccia null'altro, oppure scaricare gli aggiornamenti e scegliere tu quali installare. Ancora, potrai verificare la presenza degli aggiornamenti e poi sarai tu a scegliere se scaricarli ed installarli. Ed infine, non verificare mai la disponibilità degli aggiornamenti se non vuoi mai aggiornare il tuo sistema operativo. Qui uno screenshot che rappresenta appunto le quattro opzioni che ho appena descritto. Personalmente scelgo di avere la notifica ma poi deciderò io cosa aggiornare. Esistono altri due segni di spunta che ti permettono di consentire di scaricare gli aggiornamenti consigliati come se fossero importanti, oppure scaricare altri aggiornamenti della Microsoft insieme all'aggiornamento che eseguirai del sistema operativo. A te la scelta per queste due opzioni. Io personalmente eviterei la selezione. Al termine applica oppure annulla se vuoi annullare queste impostazioni. La seconda sottosezione, cronologia file, ti permette di impostare il salvataggio automatico di alcuni file al fine di preservarli. È una copia di backup che potrai scegliere di attuare o no. Devi attivare tale funzione ovviamente tramite un cursore. E una volta selezionata la periferica nel quale effettuerai il backup, ammesso che sia collegata naturalmente, ciò permetterà automaticamente di avviare il processo dei file per alcune cartelle del sistema operativo. In particolar modo, documenti, musica, immagini, video e ciò che avrai sul desktop. Se sei un utente attento e pratichi le strategie visse finora in questo percorso didattico, puoi comunque anche disinteressarti di questa sottosezione. Perché ovviamente attuerai le tue metodologie di backup. Ultima sezione, ripristino. Questa è una sezione molto ramificata. Apparentemente si presentano solo tre opzioni, come evidenziato in questo screenshot, ma in realtà se ne trovano molte ancora dietro. La prima sezione permette di reinizializzare il PC, conservando i due file. In pratica, questa è l'opzione che potrai utilizzare se il sistema operativo si avvia, ma non funziona correttamente, diciamo che non ti piace. Avviando dalle procedure e seguendola, il sistema tenterà di autoguarirsi, passami questo termine, lasciando inalterati tutti i due file. È l'opzione, per così dire, meno invasiva. La seconda opzione invece è drastica. Infatti, se il tuo PC si avvia, ma non vuoi riportarlo alle condizioni di fabbrica, ammesso che questo computer tu l'abbia acquistato con una partizione dedicata, quindi creata dal produttore, potrai agire con questa azione, e quindi portare il PC alle condizioni di quando lo hai acquistato. Spazzerà però via tutto, attingendo appunto alla partizione creata e nascosta dal produttore. In questa partizione sono inclusi sistema operativo, driver e programmi definiti da lui. Una nota a margine. Se il disco rigido del computer che hai acquistato nasce con una sola partizione, all'interno del quale naturalmente c'è il sistema operativo, e tu ne avessi creata una successivamente dopo averlo acquistato, nel quale magari potrai conservare i tuoi dati, ricordati una cosa. Prima sposta tali dati su una periferica esterna, perché se dovrai ripristinarlo alla configurazione di fabbrica, perderai tutti i dati e quindi tutta la partizione che avrai creato. L'ultima opzione è riferita all'avvio. Questa è una sottosezione anche variabile in base alla versione del sistema operativo, e per questo ti trovo delle informazioni generiche. Leggendo la descrizione comunque ti renderai conto delle possibilità che ti offre. Infatti potrai innanzitutto eseguire l'avvio del PC da una periferica esterna, come una pendrive oppure un DVD. Ciò può configurarsi quindi con l'inizio di una nuova installazione pulita, o l'avvio del PC con uno dei LiveGD, utili magari per varie situazioni come una diagnostica, una scansione a freddo. Potrai anche variare le impostazioni di avvio del computer e permettere la visualizzazione delle opzioni, tra le quali molto importante è la modalità provvisoria. Oppure ancora, avviare la ricerca di soluzione dei problemi, tentare di correggere i problemi se il sistema operativo non si avvia, oppure semplicemente spegnere e riavviare il computer. Potrai anche ripristinare il PC ad una data antecedente, con ripristina configurazione sistema, ripristinare tutto il sistema operativo tramite un file immagine, magari che hai creato tu, in maniera da ottenere un sistema operativo personalizzato. Avviare il PC mostrando una sola finestra, chiamata PropT dei Comandi, che tramite delle linee di comando ti permetterà di eseguire delle opzioni, questo se magari sei un po' più performante dal punto di vista della gestione delle linee di comando, e molte altre cose. Come vedi, una grossa quantità di condizioni, anche in parte trattata comunque durante il percorso didattico, finora partendo da Windows 7 fino a Windows 8 e 8.1. Al tuo livello si tratta in pratica di recuperare le informazioni appunto acquisite durante il percorso, individuandole nelle lezioni fin qui trattate, e gettarti nella scansione delle singole opzioni, anche semplicemente in chiave di lettura, sia chiaro, per prenderne coscienza, oppure gettarti nella mischia e scovarla nei dettagli. È così che ci si evolve, Goodyear, credimi. Alla Goodyear, come sempre, avviamo la charms bar, impostazioni, modifiche impostazioni PC, e dal termine clicchiamo su aggiorna e ripristina. Dopo qualche secondo si aprirà questa schermata, cliccando su questo pulsante potrai verificare la disponibilità degli aggiornamenti e in seguito installarli, cosa che abbiamo anche già visto durante la spiegazione di Windows 7, oppure visualizzare con questo pulsante la cronologia degli aggiornamenti installati, in questo caso, come puoi vedere, c'è un'installazione riuscita ed una non riuscita, considera che questo sistema operativo che sto utilizzando è molto leggero, l'utilizzo soltanto per la parte didattica. Torniamo indietro, con questo pulsante clicchiamo sul pulsante Scegli come installare gli aggiornamenti e da un menu a tendina possiamo decidere se non verificare mai la disponibilità degli aggiornamenti, come vedi la Microsoft indica come scelta non consigliata, oppure verificare la disponibilità degli aggiornamenti ma consentire a te la scelta di scaricarli o di installarli, questa è la scelta che personalmente io utilizzo, oppure scaricare gli aggiornamenti ma consenti a te di scegliere se installarli e infine, quella che normalmente consiglia installa gli aggiornamenti automaticamente. Altra possibilità è selezionare o meno questi due segni di spunta che permetteranno di scaricare gli aggiornamenti consigliati come se fossero aggiornamenti importanti oppure in questa seconda casella scaricare gli aggiornamenti che fornisce la Microsoft per altri prodotti durante l'aggiornamento del sistema operativo. Dopo la scelta potrai impostare la opzione applica oppure annullare le impostazioni precedentemente selezionate. Clicchiamo su applica. Tornando indietro puoi cliccare sul pulsante cronologia file. In questo caso questa sezione ti permette di eseguire come leggi il backup di alcuni file presenti nelle cartelle documenti, musica, immagini, video, desktop e ciò potrà avvenire attivando il cursore. In questo caso potrai decidere di eseguire il backup e automaticamente il sistema ha scelto una partizione disponibile. Potrai anche selezionare tu una partizione o una periferica diversa qualora ne avessi collegata più di una. In questo caso come puoi notare il sistema operativo sta già eseguendo il backup dei file. Annulliamo perché come detto questa sezione è solo a scopo didattico. Ultima sezione ripristino. In questo caso tramite queste tre opzioni potrai sistemare per così dire il sistema operativo. Nella prima sezione se il sistema operativo non funziona correttamente potrai reinizializzarlo senza naturalmente perdere i due file come foto, musica, video ed altri file personali. La seconda sezione è molto invasiva in quanto riporta tutto il sistema operativo alle impostazioni del produttore. Questo ovviamente come già detto se il computer presenta una partizione dedicata e creata dal produttore. Ultima sezione è un avvio avanzato che significa che va a operare delle impostazioni per quel che riguarda l'avvio del sistema operativo o da periferiche esterne come USB o DVD oppure modificare le impostazioni dell'avvio del sistema operativo o ripristinare il sistema stesso da un file immagine che avrai creato precedentemente o più semplicemente riavviare o spegnere il computer. Clicchiamo questa sezione per iniziare se vuoi reinizializzare il PC conservando i due file e come vedi in questo caso ti chiede di inserire il disco del sistema operativo per avviare la reinizializzazione. Nella seconda sezione, cliccando sull'opzione di avvio non potrà avviarsi il ripristino all'impostazione del produttore perché nel mio caso specifico non ho una partizione dedicata e generata dal produttore in quanto il mio computer è autoconfigurato. Ultima sezione è Riavvia ora che ti permette di avviare le opzioni avanzate del sistema operativo. Quest'ultima opzione in questo caso specifico non la posso avviare perché il computer naturalmente entrerà in una sezione e disattiverà la registrazione di questa lezione ma con un po' di pazienza ti invito a visionarla e testare magari con una copia del sistema operativo installata in una partizione secondaria. Bene, nella prossima lezione individuiamo il pannello di controllo e ciò che contiene anche queste cose che già abbiamo in parte visto. Ora un forte saluto ciao presto da Gallo e alla prossima!